ciao ragazzi ben ritrovati su mio canale mccalli e sono michele e oggi voglio parlare di auricolari auricolari molto particolari vi faccio vedere innanzitutto l'azienda e il packaging l'azienda si chiama mob voi e in particolare queste auricolari si chiamano mob voi air buds e rsi avete capito bene hanno il sistema di active noise control e quindi possibile andare a sopprimere quelli che sono i rumori esterni ora perché ho deciso di realizzare questo video perché mi sono piaciuti davvero tanto dietro c'è un'azienda che si chiama a per l'appunto ma voi nata nel 2012 leader ormai a livello globale infatti grazie a diverse collaborazioni anche con google veramente è riuscita a realizzare tantissimi prodotti con un ottimo rapporto qualità prezzo è una grande qualità costruttiva famosa per esempio per i smartwatch come i tic watch ma detto questo perché mi sono piaciuti beh perché hanno questo sistema di active noise control e sono tra le poche cuffie tra le poche auricolari che si indicano perfettamente con ios e android infatti è possibile attraverso una serie di comandi che poi dopo vi spiegherò andare a attivare quello che è il sistema di casa apple o siri e vi posso assicurare che è difficile riuscire a trovare degli auricolari che costano così poco perché in questo momento si aggirano intorno ai 30 euro su amazon anzi metterò il link in descrizione per chi volesse acquistarle e che hanno appunto un sistema di soppressione di rumori e allo stesso tempo è possibile andare a una serie di comandi appunto attivare il sistema vocale di apple questo significa un'ottima integrazione sia software che hardware ma basta chiacchiere e andiamo a scoprirle insieme dopo la sigla e allora andiamo subito a vedere il packaging packaging che mi è piaciuto davvero tanto qui sono illustrate alcune delle caratteristiche tecniche di questi auricolari che dopo vi elencherò ecco qui le nostre cuffie con questa bellissima colorazione bianca lucida bianco perla è possibile andarle a rimuovere dallo scatolo grazie a questo laccetto quindi già da qui potete capire quanto sia importante fermo poi la cura non solo dei loro prodotti ma anche diciamo della della confezione del packaging e qui è possibile trovare il classico manoletto di istruzioni che ora vi faccio vedere ovviamente i gommini che poi si adatteranno a seconda di quelle che sono i padiglioni auricolari e il menù dove chiaramente è presente grazie anche a una guida rapida la lingua italiana poi all'interno abbiamo anche il classico cavetto di tipo type c usb ragazzi cavetto type c che su questa fascia di prezzo non è per nulla scontato e poi una serie di adesivi benissimo andiamo a vedere subito quella che è la cuffia e vi faccio vedere appunto quelle che sono alcune delle sue caratteristiche allora per prima cosa vi faccio vedere che così come ho detto precedentemente il punto di forza è proprio l'activity noise control ovvero è possibile andare ad sopprimere quelli che sono i rumori esterni fino a 35 decibel ora io ho fatto delle riprese l'ho provata in esterno anche in delle giornate abbastanza ventose e vi posso assicurare che la differenza non è tanta ma si sente e quindi devo dire che il loro lavoro per quello che è il prezzo diciamo di questo ma poi lo fanno veramente bene poi hanno un'altra particolarità ovvero quella che è possibile andare ad utilizzarle indipendentemente l'una dall'altra in che senso nel senso che se noi vogliamo utilizzare un solo auricolare questi funzionerà senza alcun tipo di problema questo perché non c'è un auricolare master ma è possibile utilizzarle un auricolare piuttosto c'è anche un altro magari delle condizioni particolari dove è necessario avere la massima attenzione a quelli che sono i rumori esterni e poi abbiamo un alta fedeltà del suono grazie a un hi fi sound quality perché perché abbiamo degli speaker da ben 13 mm ora proprio parlando di quelli che sono rumori esterni noi abbiamo qui ben tre modalità allora la prima si chiama quiet mode la modalità quiet mode è quella che ci permette appunto di attivare l'active noise control come si attivano queste modalità benissimo molto semplice basta tenere premuto su quello che la parte alta dell'auricolare proprio perché sono dotati di controlli touch tenendo premuto sentiremo una voce in inglese che ci dirà appunto che la modalità quiet mode è stata attivata oppure tenendo ancora premuto è possibile poi passare a un'altra modalità che è quella di sound pass through mode questa modalità invece ci permetterà di poter sentire ciò che ci circonda molto utile quando per esempio facciamo jogging e dobbiamo stare attenti a quelle che sono le macchine in strada oppure se possiamo stare attenti a ciò che dicono le persone che ci circondano e quant'altro poi c'è una terza modalità dove non è attivo né la nsi né questo sound pass through mode benissimo detto questo è possibile tramite quindi tutta una serie di comandi ci sono tutte le istruzioni comunque all'interno del packaging andare ad passare per esempio da una canzone nell'altra grazie a un bluetooth 5.0 scontrato a alcun tipo di ritardo nonostante per esempio abbia fatto delle prove andando a scrivere velocemente sulla utilizzando la tastiera dello smartphone e poi la particolarità è quella quindi che andando per esempio a premere due volte è possibile andare a stoppare una canzone andando a premere tre volte rapidamente invece nella cuffia di sinistra ci permetterà di poter attivare siri o google assistant ora e cosa succede mentre se noi andiamo a premere tre volte nella cuffia di destra è possibile passare tra da una taccia all'altra ora quando però noi andiamo a posare la cuffia sinistra all'interno della confezione e quindi la cuffia destra diventerà l'unico auricolare che noi stiamo utilizzando cosa succederà succederà che non sarà più possibile andando a premere tre volte passare da una traccia all'altra perché andando a premere tre volte il comando di assistente vocale si attiverà sulla cuffia di destra questi sono insomma piccoli dettagli però è giusto dirli per una questione di correttezza è possibile avere una durata della batteria come potete vedere qui dal packaging di ben cinque ore mentre grazie a questo case diciamo che è piuttosto grande è possibile andarla a ricaricare fino a 18 ore quindi più o meno corrisponde questo a circa tre cicli di carica o poco più inoltre ma voi garantisce anche essendo un'azienda comunque leader del settore presente quindi a livello globale garantisce anche una serie di community che è possibile diciamo trovare su facebook di utenti che per esempio hanno questi prodotti con cui è possibile interfacciarsi chiedere consiglio e quindi ci stiamo veramente affidando a quella che è un'azienda che supporta anche attraverso delle applicazioni negli smartphone con costanti aggiornamenti quelli che sono i propri dispositivi ovviamente una volta che le avremo tolte da quello che è il packaging è possibile facilmente andarle a connettere tramite il bluetooth dello smartphone il nome delle cuffie sarà monvoy earbuds amc vi faccio sentire adesso una canzone più o meno per farvi capire diciamo quella che è la qualità dell'audio allora diciamo che è difficile far capire quella che è la qualità del suono in questo modo bisogna chiaramente averle messe nel proprio padiglione auricolare però vi posso assicurare che il suono è molto pulito equilibrato ottimi diciamo i bassi non sono molto potenti ma devo dire che se volessi dare un termine giusto per definirle sono molto piacevoli nell'utilizzo quotidiano come potete vedere da qui possiamo andare a ricaricare le nostre cuffie attraverso un attacco di tipo tpc e sono dotate di un led di notifica che andrà a lambeggiare o sarà spendo quando sarà ancora necessario tenerle sottocarica ovviamente è possibile andare a collegare al proprio smartphone per verificare la percentuale residua di batteria io ve le straconsiglio perché costano poco hanno un sistema di active noise control si integra perfettamente quello che è il sistema di google assistant o siri sono delle cuffie da avere sempre in tasca e hanno anche un'ottima durata della batteria quindi come sempre vi ringrazio vi chiedo di mettere mi piace di condividere questo video per supportare il canale e un saluto da Michele e dal canale Mikal arrivederci a un prossimo video